Giornata di recuperi nel girone C di Lega Pro. Tre le gare in programma nel pomeriggio di oggi. Inizialmente erano quattro, ma l'emergenza Covid ha fermato il recupero della terza giornata tra Avellino e Bisceglie. Il Palermo vuole confermarsi dopo aver superato lo scoglio Covid. Al Barbera arriva il potenza di Ezzolino Capuano. Il tecnico Lucano dovrà fare i conti con una formazione a dir poco rimaneggiata. Infatti mancheranno Cianci, Baclè e Salvemini. L'unica nota lieta è l'ingaggio del portiere Marconi, che partirà dal primo minuto contro il Rosanero. L'attacco sarà tutto atipico, formato dai giovani Volpe e Compagnon. Il Palermo di Boscaia potrà contare sul recupero a centrocampo di Auger. Il Foggia, invece, dalla sua cerca il colpo grosso in casa della rivelazione Teramo, trascinata fin qui da un super Italy, 5 rettisegnate dal centrocampista degli agruzzesi. Il vero banco di prova è il match serale tra Catania e Vibonese. E' crisi aperta per gli etnei del tecnico Raffaele, tecnico che dovrà fare i conti con sei assenze. Il Catania torna nuovamente a calpestare il Massimino dopo aver giocato le ultime gare a Lentini. La Vibonese, dopo la prova di forza contro il Potenza, vuole stupire ancora, nonostante le tante assenze, per l'emergenza Covid. La Vibonese, dopo la prova di forza controllo,